I casi covid in provincia di Arezzo hanno subito un'impennata negli ultimi giorni. Nel giro di 24 ore si è passati da 221 a 800 nuovi positivi. E così Don Alessandro Bernardini, parroco di Ceciliano, Patrignone e Campolucci, frazioni del comune di Arezzo, ha deciso di non impartire la benedizione nelle case dei fedeli, ma di distribuire boccette con dentro l'acqua santa. Siamo ancora in stato di emergenza, almeno fino al 31 di marzo, spiega il sacerdote, al Corriere di Arezzo, preferisco preservare i miei parrocchiani. Così ho deciso di preparare le boccette con dentro l'acqua santa, che saranno distribuite a partire dal giorno della Domenica delle Palme. Una benedizione fai da te, insomma, che era stata adottata durante i primi mesi della pandemia. I fedeli, che non sono troppo d'accordo con questa decisione, non vogliono però esprimersi ai nostri microfoni. Gli altri, invece, la pensano così. Tutti i torti non ce li ha, tutti i torti, in effetti sta riaumentando e che purtroppo colpisce anche chi mi ha vaccinato, anche se in modo molto lieve, come è successo a me, però penso che non tutti i torti in ce l'abbia. Ha paura, penso che ha paura come tutti quanti, perché è una situazione particolare questa. Anche l'anno scorso ha fatto così, non è andata male, diciamo. Ancora i casi ce ne sono diversi. Può darsi che sia una motivazione giusta. Magari anche da fuori, ecco, non c'è bisogno di entrare su per tutte le state, però da fuori, da fuori anche il virus penso che non si contagia. Magari anche senza entrare dentro, magari fuori e abbiere la casa, tanto poi la benedizione se funziona arriva dall'alto. Magari anche da fuori e abbiere la casa.